ciao ragazzi come va? quando ho visto sulla pagina di facebook le frasi ufficiali di ex presidente trump beh è quando le ho lette e le ho trovate assurde e ve ne leggo qualcuna e vi dirò le mie frasi contro quelle frasi di trump quando torno a casa e la scena aspetta scusate quando torno a casa e la scena non è pronta vedoci tutte le furie che vuol dire? almeno se torni se uno torna a casa tardi senza la cena poi alla fine viene non so non è che sono molto non ho avuto esperienza di questo genere ma per chi le ha immagino che saprà essere disaccordo su quello che ha detto perché devi sapere signor presidente ex presidente trump che anche gli uomini spetta cucinare non solo le donne hai detto questa cosa perché non sai farlo non sai preparare una cena un pranzo è l'unica cosa che ti si è cotta è la faccia ecco perché arancione troppo sole ci hai messo un po' di burro per caso? no? sì? vabbè andiamo al prossimo quando una donna senza seno difficilmente è da 10 no? è sbellatissimo è una frase maschilista? non saprei secondo me una donna con qualsiasi taglia di seno è bellissima se sia piccolo o grande di seno è bellissima io non ho alcune alcune distinzioni perché non si deve considerare una donna soltanto per il suo corpo e per le sue forme ma anche del suo aspetto del suo carattere della sua personalità ecco come si conosce una donna una ragazza per questi elementi non per quella cosa banale che ha detto trump no andiamo al prossimo l'aspetto è importante per esempio tu una giornalista non avresti il tuo lavoro se non fossi bella no essere giornalista essere assunti come giornalista non deriva dall'aspetto ma dalla professionalità da come si impegna a questo lavoro e se si impegna al massimo anche se non si è belli comunque si arriva a un traguardo molto più in alto di quanto si possa ci si possa aspettare far lavorare una moglie è una cosa molto rischiosa perché non si si considera si deve considerare che ci sono donne molli che non hanno un marito e che cercano di mantenere la casa e i figli lavorando ma se stanno a casa a lavorare a casa non guadagnano ma soltanto lavorando in qualche azienda in qualsiasi ambito che si riesce a mantenere la casa e la e i figli altrimenti poi si va in bancarotta e si diventa senza te senza tetto si va in fallimento perciò anche la donna deve lavorare oltre ai uomini ma perché dico questo non è per essere maschilista no per niente ma dico soltanto perché perché anche la donna deve sentirsi importante non soltanto facendo faccenda di casa non soltanto questo se no non so chiamerei una discriminazione verso il genere femminile si sottovaluta poi andiamo avanti che non voglio continuare concedere a vostra moglie beni materiali ed eccessiva sicurezza economica e un terribile d'ore e non lo so se non so cosa cosa mi viene in mente ma non lo so non so trovare questa in questa frase una risposta se se la se la trovate voi questa la risposta in questa frase ve lo ridico in modo più concreto è molto più normale concedere a vostra moglie beni materiali ed eccessiva sicurezza economica è un terribile errore scrivetelo sotto nei commenti la risposta in questa frase perché non riesco a trovarla una gravidanza è una cosa meravigliosa per una donna e il marito beh questo dipende anche dalla scelta se una donna o se il marito e la moglie vogliono fare un figlio e poi progredire per una gravidanza verso la donna è una scelta e soprattutto per la donna anche per l'uomo sì è una cosa meravigliosa vedere il figlio che nasce è un miracolo enorme perché poi ti fa sentire felice ti fa sentire importante ma andiamo avanti non so se ho espresso bene ciò che ho detto fin tanto che avete con voi una giovane splendida gnocca non ha importanza quello che scriveranno in media no ancora no è un'altra frase maschilista sessista ecco sessista come per la frase l'aspetto è importante per esempio tu alla giornalista non avresti il tuo lavoro se non fossi bella più o meno è la stessa cosa perché come ho detto prima e poi questa frase è stupida è stupidissima cavolo ma come fa a pensare a queste cose certo è vecchio non so 65 anni 70 ma accontentati della moglie accontentati della tua moglie non pensare ad altro perché come se penserebbe a questa cosa alla frase giovane splendida gnocca maledizione io queste cose non le sopporto è puro sessismo ma questa ma questo questo Trump non ha pensa soltanto a queste cose sono cose ormai superate la società si sta evolvendo vabbè pian piano perché c'è anche il coronavirus che rallenta il processo di sviluppo beh diciamo e queste cose ormai sono scontate cavolo datti qualche l'illuminazione non lo so io non so cosa pensare di queste frasi veramente sono davvero non lo so alquanto scandalose che mi fanno pensare che meno male che Trump non è ridiventato presidente degli Stati Uniti d'America e meno male ma ma sinceramente non è che mi frega moltissimo della politica delle elezioni presidenziali eccetera ma sono anche contento che Trump se ne vada e a posto di Trump era Bidon Bedon fa un po' ridere comunque questo cognome cognome del nuovo presidente ma mi dissocio cosa ne penso di Trump vabbè io penso che non voglio pensarci non ci voglio pensare a Trump perché non voglio pensarci a pasta vabbè io potrei anche lasciarvi il link in descrizione la pagina Facebook con tutte le frasi e ditemelo sotto nei commenti di questo video cosa ne pensate i vostri cosa diciamo i vostri pensieri scrivetemi sotto nei commenti i vostri pensieri su cosa ne pensate dopo aver letto queste cose se siete contrari o no di quello che ha detto Trump perché vorrei saperlo tanto per sapere le vostre opinioni ecco vabbè io vi saluto grazie per aver visto questo video lasciate un bel like vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto buona cena per chi non ha cenato ancora e ci vediamo al prossimo video ragazzi a presto ciao